Domenica alle 15 al Palace Balneari è in programma l'atteso debutto in campionato della Diagnostic Group Ostia che ospiterà l'Audax Quartuccio nella prima giornata di Serie B2. Il presidente Pietro Colantonio ha presentato la squadra alla tenuta dei piani di Ostia Antica. Abbiamo cambiato molto, abbiamo ringiovanito come al solito, come nostra caratteristica, tanto. Ci sono parecchi under 18 dentro la squadra di prospettiva. Ho cambiato l'allenatore, anzi gli allenatori c'è stato un gradito ritorno, sia di Pietro Grechi che è stato da noi 5 anni e il secondo sarà Fabrizio Berger che è uno storico di Ostia. Puntiamo a una fase di assestamento, sicuramente la salvezza, una salvezza tranquilla, comoda ma la cosa principale è far crescere le ragazze più giovani, che tante sono il primo anno che fanno la B2, però sono di prospettiva. Devo anche ringraziare sia la Polisportica di Casalpocco e specialmente le Stelle Marine che ci ospitano, che purtroppo, come al solito, i campi non ci sono. Noi ci alleniamo quattro volte a settimana in tre palestre differenti. Conosci bene la realtà di Ostia, sei stato qui anche in un campionato di B1 e ora torni con tanto entusiasmo per affrontare questo campionato di B2 con tante giovani. Alcune le conosci e le hai portate a te. Sono contentissimo di tornare perché poi Piero mi aveva contattato già l'altro anno ma io per motivi familiari non potevo accettare la Serie B e conoscendo Piero mi trovo bene con lui, conosco la società di Ostia. Il gruppo è molto interessante anche se è giovane, ha prospettive di crescita molto alte, bisogna avere pazienza. Di solito che cosa dice un allenatore pochino di prima dell'inizio della prima partita del campionato? E' importante fare punti, la prima partita non sto vedendo il gioco, non vedo il gioco, non vedo le prestazioni ma vedo i risultati. Presente all'evento anche il presidente del Comitato Territoriale Roma Claudio Martinelli. I grandi campioni nascono proprio da queste realtà provinciali. Il nostro movimento è molto molto vivo in questo momento, le iscrizioni sono aumentate sia come numeri di partecipanti sia come partecipanti ai nostri campionati territoriali, diciamo che c'è molta soddisfazione.